Carissime, carissime mamme, siete voi quelle che fanno fare merende ai vostri bimbi con i prodotti balconi? Sì! Del resto si sa, le mamme italiane sono le numero una e anche i vostri bimbi non sono da meno. E tu, con cosa fai colazione ogni mattina? Che domande, Gerdi, con le merendine balconi. Scommetto che anche a te piace il Mix Max, vero? Per bacco, ma come fai a saperlo? Tra buon gustai ci si intende. Simpatici i nostri bambini, adesso però tocca a voi convincermi della bontà dei prodotti balconi. Sotto a chi tocca! Gerdi, i prodotti balconi sono senza conservanti, senza coloranti e senza grassi idrogenati. Vero, balconi offre una gamma completa di prodotti di qualità artigianale ad un prezzo alla portata di tutti. Non solo merendine, ma anche torte, wafer, biscotti, è giusto? Sì, Gerdi, balconi fa scelte intelligenti come noi mamme, risparmia sul superfluo mantenendo la qualità delle materie prime. Come le uova, fresche e tutte provenienti da allevamenti italiani. Mi avete convinto! Chi prova la bontà e la qualità dei prodotti balconi non le cambia più. E allora, the winner is... Balconi! Mamma che buoni! Eh sì, eh!